musica musica questa notte allucinano a te, questa notte allucinano a te ebbate solo da te, ebbate solo da te, ebbate solo da te io sto sempre con un giorno, facciamo anche i convegni, organisti, facciamo quello canale, youtube, i blog, ogni giorno pubblico quattro articoli al giorno la sera tornano a vaticare, prendono la youtube, fa tutto quello che vuoi diciamo che tu sei una sorta di rivoluzionario? il sorgetto, i pazzi, il sorgetto l'altro paesano, un rivoluzionario paesano caccola che regno che mi va a terra vai, io ho... lui è col bello, chi ha volto a legge? ah, altro diavolo col bello io sono stato a fare la festa di... e mi ricordai Lazzari a Napoli la diavolo, nuova piccolina tutti i miei 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 miei, ma io ho salto no, il problema è che io sono fatti super vuole, non è mi ricorda che non è male Perché non c'è parecchio, però la costina è la palla, perché c'è parecchio, come è che il simbolo c'ha? Sono a diretti, io 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 sono a diretti, pensa che l'otto pomeriggio c'ho il seminario all'università di San Maria Capoglietta. Faccio trascorrere la serata, guarda ti dico, se il tempo si fa il problema, non c'è tanto la fatica, tu faccio fare quattro cento di chilometri, non è tornato a lei. E poi ci sapete che non sono tamburi, sono tamburi, 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 si chiamate, no, tamburi, ma noi si chiamate, perché a chi senti i vecchi mi chiamano tamburi. Stai in crisi, malamente. Mi duffo proprio. Stai in crisi. Stai in crisi, penso, a fare in tutta Europa, in tutto cittadina che è morto l'ultimo domizio è un'altra cosa è una bianca della piazza esatto l'ultimo domizio è un'altra cosa è un'altra cosa lo sai Frank, lui, che è il primo che è questo guardate, io ho scostato a posto un figlio di sale ho ritrovato, mi hai sentito il nuovo franco 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 è veramente scherzo 5 5 Sì, già! Marile! Sì, vedi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.